anche quest'anno sarà protagonista la compagnia teatrale e il gaff pronta a farci scoppiare di risate sì allora in un'epoca in cui tutti siamo dietro alla rincorsa dei budget e tutti siamo ad apparire a mostrarci a rincorrere insomma noi siamo qui a presentare una commedia che si dita la chiesa contenta god quindi abbiamo un profilo basso molto basso però no non è così perché ci saranno risate ci sarà un sacco direttimento saranno due ore veramente spassose questa è una commedia che stiamo portando in giro quest'anno e dove l'abbiamo rappresentata abbiamo avuto veramente un grande grande successo perché piena di situazioni paradossali ha un ritmo veramente incalzante e piena di personaggi che non voglio arrivare niente chi chi verrà all'arena bcc poi si renderà conto e ci saprà ridire quindi chi si vuol divertire chi vuol passare due ore di sano divertimento il giovedì 25 luglio deve venire all'arena bcc per vedere il gaff che rappresenta chi sa contenta god